Uno slogan, Deep and Mix, cioè in profondità e con la possibilità di mixare, di mescolare. Sicuramente condivisione. Teach the future. La stampa 3B. Il futuro è sicuramente innovazione. Yeah. Informed. La parola chiave sarebbe hands on, con le mani. Uno dei key words è, in realtà, l'automatizzazione e l'intelligenza artificiale. Il mio key word for the future è un entrepreneurial. Un future forum, in una parola, è skills, competenze. Democracy. La parola chiave è creatività. Per me, la parola chiave che possiamo considerare per il futuro è sostenibilità. Io penso che la mia key word sia questa, impatto sociale, paziente al cielo. Parola chiave per il futuro, condivisione, costruire insieme la visione del futuro, costanza, permanenza. So, if you ask me to give a few key words for the future of tourism, I would say, one is emerging technologies, the second is the distribution of wealth, and the third is lack of resources. Those three forces will drive the future of tourism to 2050. The key word is collaboration. Educazione e creatività. Due parole chiave. Educazione e creatività. La parola chiave per me, dei prossimi almeno dieci anni, è ipermodellazione. La parola chiave è sharing, la capacità di condividere. Sharing, sharing, condividere per crescere. Il sistema, come si vede, risponde sempre più rapidamente. La parola chiave è sempre innovazione. La parola chiave del futuro in questo settore è innovazione. Io ce l'avrei una parola chiave, a ritmo poiesi, fare coi numeri, utilizzare i numeri per produrre bellezza. Le parole chiave per l'alimentazione saranno sicuramente cultura, identità e anche innovazione, intesa nel senso non solo di tecnologia ma anche di innovazione sociale. Le parole chiave del futuro dell'alimentazione sono tecnologia, sostenibilità, convenienza economica. Le parole chiave sono sicuramente trasformazione, sono innovazione, come dicevo prima, di prodotto e di processo e anche un posizionamento probabilmente della produzione, della trasformazione su nicchie per così dire. Cambiamo e organizziamo una società per le relazioni. Direi proprio quella della condivisione di valori, valori collettivi e ben comune. Una keyword sia sicuramente l'impegno. Le parole chiave sono cambiamenti e innovazioni. Un'altra parola chiave è quella di sperimentazione. Innovazione e tecnologia. Il mio hashtag è città competitiva. Appropriatezza, informazione. La parola chiave per il futuro è pensare il futuro. Appropriatezza, informazione. Appropriatezza, informazione. Appropriatezza, informazioni. Appropriatezza, informazioni. Grazie a tutti